La sezione 31 quest'anno è stata presente qui al Congresso Nazionale Sinfer di Padova con una sessione molto interessante che si è tenuta lunedì 7 ottobre sulla equità e appropriatezza delle cure in ottica genere specifica. Ci sono state interessantissime relazioni relative sia all'equità e all'accesso alle cure e sia per esempio alla violenza sui disabili nonché anche ai trattamenti riabilitativi declinati in ottica genere specifica in un certo numero di patologie. In particolare una relazione è stata molto apprezzata, quella della dottoressa Antonella Vezzani Presidente dell'Associazione Italiana Donne Medico che ha presentato proprio la relazione sulla equità di accesso alle cure per le persone disabili. Anche la professoressa sacerdote dell'Università Statale di Milano ha tenuto una bellissima relazione sul dolore in ottica genere specifica e la Cristina Del Prete che è una nostra associata fisiatra della sezione 31 ha invece tenuto una relazione sulla violenza, sui sistemi di protezione dalla violenza dei soggetti disabili. Io invece ho presentato una relazione sui dati della medicina genere specifica nell'ambito di numerose patologie di interesse riabilitativo. Per il 2025 la sezione si prepara ad avere un ciclo di smart webinar di circa 30 minuti su numerose evidenze scientifiche sempre in ambito di medicina di genere nonché un corso 10-18 che si terrà a Matera e su cui vi aggiorneremo.